Io sono la mia storia, le mie radici, i miei segreti. Sono le mie regole, sono quello che non si adatta. Sono io, da sempre, per sempre. Fernet Branca, inimitabile, come te. Ti impegni tanto per avere una bocca sana. Ma il tuo dentifricio si impegna quanto te. I dentifrici comuni proteggono. Il nuovo Ralbiri genera smalto va oltre la semplice protezione. Previene la perdita di densità futura dei denti. E li rinforza per denti sani. Più a lungo. Nuovo Ralbiri genera smalto. Oltre la protezione. Osserva i colori. Scopri i profumi. E i sorprendenti sapori di un itinerario sensoriale senza eguali. Ducca e salia. Vini e spumanti dell'Astigiano, del Roero e Monferrato, delle Langhe. Ducca e salia. Nobili vini del Piemonte. Lo sapevi che col tempo il tuo naso si abitua ai cattivi odori? Il tuo olfatto diventa assuefatto. Ma gli altri sentiranno questo. Arriva il diffusore elettrico Ambiport Trivolution con programmazione intelligente. Combatte gli odori ed è l'unico profumatore che alterna automaticamente tre fragranze complementari e ti avvisa quando lo devi ricaricare. Addio olfatto assuefatto. Per un profumo continuo fino a 90 giorni. Ambipur respira felice. E quest'anno respira la magia del Natale con le fragranze dell'edizione limitata. L'attesa è dove tutti i desideri prendono forma prima di avverarsi. E la forma più bella è sempre quella del cuore. Buone feste da Monce. La famiglia italiana del pet food. Altra maratona notturna per gli emendamenti alla manovra economica. Il testo previsto in aula alla Camera domani giovedì. Voto di fiducia venerdì. Tensione con le opposizioni sullo scudo penale per reati fiscali poi ritirato. Qatargate. Prima missione scambio di accuse per Eva Caili. Antonio Panzeri in carcere in Belgio rimandata.